Favreto Giuseppe, nato a Umago, il 31 del 10 del 39. Arrivo a Umago, dove è il primo paese che si incontra andando verso Pola sotto la Croazia, a un bellissimo porto, e il mio ricordo è la mia gioventù che l'ho passata sulle scogliere, sui borghi, i nostri giochi semplici ma molto divertenti. Dire triste è poco, comunque io avevo 14 anni e per me era come cambiare la curiosità di vedere dove si va a finire. Comunque i miei genitori purtroppo avevano le lagre negli occhi perché lasciare una casa e andare all'incognito, di fatti quando abbiamo chiuso la porta mia mamma ha detto, quando avremo un'altra casa? E purtroppo era in ballo la pulizia etnica, allora era poco da scegliere, perché la questione era, l'italianità veniva in tutti i modi, veniva oppressa, allora noi si sentivamo, noi italiani, italianissimi, e siamo venuti via, in questo caso qua, piuttosto contenti di non rimanere sotto quel regime. Le spalle si sono lasciate le proprie radici e dopo i nostri ricordi e cultura. Purtroppo il mondo cambia, ma però quando si vive in un paese o altro, noi non operavamo mai, per esempio le chiavi delle porte, era tutto aperto, si conosceva l'un con l'altro, era tutto un altro sistema di vivere. E abbiamo perso le radici, noi siamo purtroppo, siamo un popolo senza radici, non abbiamo più, perché con qua siamo istriani, se siamo istriani, se andiamo in Istria, siamo italiani fascisti, perché dopo 60 anni la parola fascismo non è stata mai ancora cancellata. E in Istria purtroppo i fascisti erano pochissimi, perché non erano industrie, erano contadini e pescatori. E ho superato perché prima di tutto ho fatto sei anni di campo profughi. E la mia mamma era una donna piuttosto sparignina, siamo andati a lavorare, abbiamo fatto qualche soldino e finalmente dopo sei anni e mese siamo entrati a una casa modesta, ma avevamo un appartamento. E' accaduto che il tempo purtroppo è galantuomo, guarisce tutte le ferite. E allora anche qua, avendo una casa, aver sofferto sei anni in campo profughi, è facile dimenticarsi, però i ricordi e il tempo passato in quelle condizioni non si può dimenticare. Un confine purtroppo è una linea di demarcazione che crea odi, crea interessi e quando che tutte queste cose e che la gente capiranno che il confine crea tutte queste cose, che è meglio a sistemarsi da soli, cioè a ragionare da soli, sarà sempre tardi. fino a che sarà confini, sarà sempre queste cose, queste lotte. E oggi sinceramente rimane un fatto che se noi a quei tempi avessimo avuto un governo che ci avesse difeso, quest'ora qua forse potremmo restare ancora a casa nostra, ma il governo di allora li interessavano più a difendere certe terre che non erano mai italiane e non saranno mai, e hanno abbandonato l'Istria italianissima. Ma di fatti si è visto che è un po' di esodo che è successo. È un messaggio che difficilmente con i nostri confinanti vennerà al dunque. E il messaggio è che tutti devono prendersi le sue colpe, le sue responsabilità, perché non ha fatto solo l'Italia. L'Italia ha fatto durante la guerra, qui l'hanno fatto durante la pace, e allora che mettono tutti e due una pietra sopra, e che purtroppo, penso che nel terzo millennio sia ora di andare d'accordo e dire basta guerra e basta odi e basta tutte queste questioni che è nato nel millennio precedente.